ciao ragazzi benvenuti nel canale di camperisti nonno big house allora volevo informarvi di una cosa vedo esattamente il penny mi è arrivata una mail del penny dove si può giocare a un cavolo di giochino un po qua ti dice sfoglia volantino ma io non voglio sfogliare volantino voglio farvi vedere giochino che è un po non voglio volantino non voglio volantino io voglio giocare un po dando via ok questo qua questo qua è un giochino dove vedi mi dice torna domani per giocare di nuovo praticamente girando ogni giorno ogni giorno vinci dei prodotti chiaramente scadono dopo quattro cinque giorni e cioè nel senso che entro cinque sei giorni devi ritirare il premio tra virgolette niente io ne ho accumulati quattro perché ho vinto quattro premi esattamente due yogurt il pan carré e il bustel sono andato a prendere due cosette una zuppetta il altissima le faccio vedere qua una zuppetta e il bevelino qua le salviette ho detto prendo almeno prendo anche queste cose qua a gratuite nella realtà dei fatti sono completamente gratis quindi scaricate subito l'app della penny a me non viene in tasca niente però a voi vengono in tasca i prodotti gratuiti in più poi sono andato all'esse lunga sulle birre avevo ogni per 15 euro di spesa 4 euro di sconto più 33 centesimi sull'acquisto di una confezione d'acqua quindi diciamo che oggi sono andato al risparmio risparmio o gratuito quindi niente questo è solo per farvi questa cosa qua insomma per farvi vedere che il penny vabbè ma magari nessuno va il penny però finché grazie si te frega e lo yogurt di soia penso che sia anche buono a me piace e niente adesso sto facendo anche il digiuno per purificare un po il corpo quindi vediamo fino a quanto resisto senza mangiare e non è una questione di risparmiare soldi sul pranzo proprio per vedere di tirar via un po le tossine dal corpo sto seguendo un mio amico che l'ha fatto l'ha fatto per cinque giorni adesso lo sta facendo è passato un mese lo sta facendo per nove e dovrebbe arrivare a 10 11 giorni poi si ferma e ogni mese fa questo piccolo digiuno così vediamo dimagrire dimagrito sta meglio in forza vediamo io come me la cavo stasera non si mangia stasera si beve solo ed esclusivamente il tè verde quindi questo tè verde qua e niente quindi vi faccio sapere come state connessi infuso di tè verde buongiorno ragazzi diciamo che il secondo giorno di digiuno appunto per la purificazione del corpo vediamo se funziona questa cosa quindi tè verde e poi mi prendo un caffè prima di andare a lavorare adesso sono le sei del mattino bevendo il tè anche alla sera e mi sono alzato due volte stanotte per andare in bagno quindi penso che sia anche proprio una purificazione di questo e niente ci sono 18 gradi no è puntato 18 gradi il cinesino e ce ne sono 20 dentro quindi si sta da dio fuori fa freddino e le temperature non si sono ancora alzate più di tanto quindi nulla cinesino va veramente bene diciamo che tutto questo inverno qui ho fatto è stato proprio top e niente dai vi faccio sapere poi come andrà questa questo digiuno insomma non ho e non sono seguito da un dottore quindi chi fa questa cosa qua la fa per se stesso per i fatti suoi cioè io ho copiato tra virgolette un amico che l'ha già fatto e non siamo tutti uguali quindi se volete farlo chiedete al medico e fatelo e quindi niente questo era un appunto perché sai è sempre meglio tutelarsi via ciao ragazzi ecco sono le 9 di sera e niente io non ho resistito dopo 48 ore di digiuno alla fine ho dovuto mangiare per forza qualcosa perché non ce la facevo più avrei potuto magari resistere ma siccome ho visto un video anzi due video dove parlavano appunto di questa cosa qua vabbè io non ero ancora andato ad approfondire io ho seguito un mio collega ho detto ma si proviamo e alla fine ci riesce per l'amore del cielo e la purificazione c'è funziona però se lo fai per più di tre giorni perché c'è da 1 a 3 da 3 a 12 da praticamente da 0 a 20 giorni solo che si rischia se non si è abituati si rischia di avere più casini che pregi quindi siccome ho visto delle immagini dove appunto ci hanno appunto questi crampi allo stomaco di persone che appunto hanno fatto questo tipo di cosa dopo due giorni ha cominciato ad avere i crampi allo stomaco io siccome oggi sinceramente mi sentivo dei crampetti allo stomaco cioè piuttosto che avere quel dolore qui riesco a mangiare quindi ho mangiato leggero ho mangiato una scatoletta di tonno ho mangiato due cracker integrali delle noccioline lì delle arachidi e un caffè quindi comunque sia mi ha riempito cioè non ho quella fame adesso mi sto bevendo il tè verde e niente vediamo operazione per il momento fallita perché comunque dovrei registrare almeno tre giorni quindi il terzo giorno il quarto mattina mangiare comunque da domenica sera a martedì sera che è oggi perfetto e niente dai alla prossima puttanata buongiorno ragazzi oggi è meno 5 e sono le sei e mezza praticamente avendo la corrente a palla come vedete è al 92 per cento ho spento il cinesino e comunque ci sono 18 gradi e ho acceso la stufretta consuma un kilowatt praticamente per mezz'ora un'ora ci può anche stare quindi risparmi il gasolio e usita corrente che è gratis perché comunque ci sono giornate queste giornate qua sono col sole anche se fa freddissimo quindi perché no lo usiamo e va bene così adesso è puntata sul kilowatt va anche a 2 kilowatt però non mi reggerebbe l'inverter perché è un kilowatt e mezzo non ho ancora cambiato e niente va bene buon lavoro ciao a tutti ragazzi allora con questa ciotolina mi vedete in mano appunto sta ciotola con questa ciotolina mi vedete in mano sta ciotola vabbè comunque abbiamo questa ciotola qua che mi ha regalato mia figlia adesso andiamo a fare una bella cosa siccome ho comprato questi cosi qua ceci e farro integrale che sono caldissimi perché li ho messi davanti all'uscita del cinesino che tanto è acceso da un po' così evitiamo di scaldarli in padella non è un problema scaldarli e usare la corrente per scaldarli però sporcherei una cosa inutilmente quindi busta calda ci mettiamo dentro siccome quella si mangia con i piselli adesso sta a vedere che non c'è piselli ma è assurda la cosa non ci credo in teoria si andava ad usare i piselli per fare un letto di piselli ma noi lo facciamo di fagioli perché alla fine se non c'è non ci sono i piselli non ci sono inutile stare qua mettiamo questa i piselli si sciacquano comunque sempre io li sciacquo sempre ok li mettiamo dentro un po' di olio forse anche troppo ne è andato giù vabbè non ha importanza adesso andiamo a prendere il frullatore e andiamo a vedere di frullare questi fagioli se va vabbè l'ha già acceso sono andato a spegnere allora abbiamo fatto questa cremina che adesso andiamo a pulire col cucchiaino perché è rimasta tutta incastrata qua buonissima questo si sgancia adesso lo pulisco e vi faccio vedere poi il piatto finito per vedere comunque questo ceci e fare integrale sono senza conservanti con la app yuka col simbolo della carota puoi andare a leggere il codice a barre e vi faccio vedere guarda allora andiamo su su yuka e questo col codice a barre si schiaccia il prodotto l'avevo già testato vedete 90 su 100 eccellente nessun additivo tante proteine fibre eccetera eccetera è una cosa molto positiva questa app in alternativa comunque se non è buono il prodotto ti da delle appunte delle alternative per cercare il prodotto migliore insomma non costa neanche poco perché forse è meglio una bistecca però diciamo che ho deciso di mangiare a modo diverso ecco mettiamola così cerchiamo di mangiare bene visto che comunque sia mangio una volta al giorno per il momento proprio per avere questo digiuno alternato se va bene perché la pancetta qua continua a crescere quindi questo si mette su comunque voglio ribadire che io non sono vegano mi piace mangiare anche quella roba qua ma non sono assolutamente vegano perché quando vado dai miei mia mamma principalmente fa carne quindi non so che dire mangio così e niente buon appetito vediamo un po' com'è si mangia un po' così buonissima guardo sulla formaggio grano è grattatino di formaggio ma non credo di averlo infatti non ho formaggio grano e poi mi sono ricordato di avere il yogurt di soia e mi mangio il yogurt di soia bello a tutti vabbè se vi è piaciuto questo video non penso più di tanto però mettete un bel like anche se non vi è piaciuto al massimo mettete il like e poi non li guardate più grande ciao ragazzi ciao ragazzi benvenuti nel canale oggi è il 13 di febbraio e niente sono andato nuovamente a fare la spesa a spesa al penny e ho preso proprio con quel giochino famoso della slot cioè assurdo che tutti regalino queste cose qua comunque guardate è vero che sono da poco comunque adesso e lo scontino un po' rovinato comunque 89 centesimi 0 69 0 59 0 99 0 totale della spesa 0 quindi ho preso l'infuso ho preso questo per il gatto yogurt alla soia e pan carré che anche se comunque il costo è risolio perché comunque c'è qua cosa sono uno due tre quasi quattro euro di roba quattro euro oggi quattro euro domani abbiamo sempre risparmiato dei soldi intanto se la regalano perché non approfittare prenderla bene poi ho fatto la schedina della iliad e veramente ci ho messo forse dieci minuti avevo già preparato lo screen con il codice della tessera ed è uscita praticamente subito io ho fatto ho messo il codice ho fatto la foto ho registrato il video e la scheda l'ha buttata fuori subito adesso verrà pronta non so quando ma verrà pronta io la inserisco nell'altro telefono così almeno appena è pronta la passo poi sul mio iphone dopo di che passerò a vodafone perché voglio una rete sicura una rete fissa una rete di modo che c'è di andare in giro col telefono così per cercare ancora il segnale con la veri quindi diciamo basta per adesso e niente dai vediamo se devo poi dirvi qualcos'altro ve lo dirò bella adesso andiamo a fare il gasolio adesso andiamo a fare il gasolio e praticamente è da sì dal mese scorso che non lo faccio vediamo l'ho fatto 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 il gasolio ho fatto il 23 di gennaio quindi è il 13 febbraio e vado a fare gasolio che è meno della metà come consumi fatti solo di cinesino siccome ho sempre paura che poi arrivi riserva non faccia tempo andare la si va a intasare il cinesino lo vado a fare adesso che lunedì oggi sono a casa schizzo a fare gasolio e poi forse carico anche l'acqua vediamo bella lì allora ragazzi sono tornato dal benzinaio e ho fatto 65 euro di gasolio nel camper quindi sono oggi è il 13 mettiamo 65 euro di gasolio quindi in praticamente contiamo insieme e sabato e domenica io accendo la truma e lascio sul boiler quindi sono 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 in 15 giorni ho speso 60 euro di gasolio per il cinevasto perché avevo fatto 88 euro avevo riempito il 23 non avendo fatto nessun tipo di chilometro comunque in 15 giorni secchi 15 giorni secchi perché oggi è il 13 ho fatto appunto 65 euro di gasolio non so se tanto o poco per l'amore del cielo sono stato adesso adesso è comunque acceso sono i maniche corti ci sono 27 gradi e lo tengo al minimo perché comunque sia la sera quando va via il sole poi fa freddo nel momento in cui sono già su è già acceso perché quando sono salito c'erano 9 gradi stamattina sono arrivato verso le 10 c'erano 9 gradi ho acceso tutto subito stufetta elettrica cinesino e cosa perché dovevo mangiare quindi appunto era quasi mezzo giorno perché dovevo mangiare quindi ho acceso tutto anche la truma ho fatto in 10 minuti un quarto d'ora ho fatto dentro 20 gradi poi ho spento tutto lasciato al minimo il cinesino e i gradi appunto sono adesso 27 quindi niente io sono diciamo abbastanza contento dai 65 euro in 15 giorni effettivi vuol dire che in un mese in 30 giorni ne spendo 120 di euro 130 euro calcolando che sto al caldo veramente giorno e notte va bene così va bene così